Non è mai riuscito a farlo in questi ultimi anni, nessuno che avesse una sorta di base elettorale o di scritti. Poi sentiamo anche Castaldo su questo. È stata crocifissa la professoressa Fornero. Che oggi scrive a Landini, peraltro, il caro Landini, le scrive la letterona. È stata crocifissa la Fornero e anche con Salvini che ha costruito una parte della sua fortuna. Quando Salvini non era Salvini e cominciò la campagna contro la Fornero, c'era ancora il governo Monti, hanno crocifisso la Fornero. Dimenticando una cosa, questa storia delle pensioni, si potrebbe fare in un libro, anzi due libri, in un'enciclopedia, ma il punto è sempre quello, cioè elevare l'età pensionabile per fare in modo che il sistema sia sostenibile. Chi fu l'ultimo che fece questo? Maroni. Il ministro del lavoro. Lo scalone di Maroni senza i sindacati. Lo scalone di Maroni lo fece senza i sindacati. E, insomma, quello prevedeva quello che succederebbe oggi se non ci fosse quota 102 o quota 103. Cioè che a un certo punto c'è una generazione che, purtroppo, va in pensione fatica ad andare. Si prende la fregatura. Si prende la fregatura perché poi se la prenderemo. Cadde il governo Berlusconi, arrivò il governo Prodi. La prima cosa che fece il governo Prodi fu annullare lo scalone. Se si fosse fatto lo scalone.